Noi come CNA di Cosenza non è la prima volta che supportiamo eventi del genere o simili perché crediamo fermamente che c'è bisogno di supportare a 360 gradi le aziende e quindi di conseguenza il territorio. Abbiamo creduto subito a questo progetto del comune di Corigliano Rossano, uno dei comuni oramai più popolosi della Calabria. E senza pensarci insieme agli amici di Convesercenti e Fede Artiziario ci siamo immersi in questo progetto perché ti ripeto crediamo tantissimo al supporto, al supporto sul territorio che di conseguenza va anche alle nostre aziende, ai nostri associati perché in questo periodo particolare, storico che stiamo attraversando cercare di portare movimento, di portare attrazione, attrattive persone e in questo momento per le aziende di Corigliano Rossano ci sembrava il minimo perché siamo storicamente presenti sul territorio e vogliamo rafforzare sempre di più come CNA e come associazioni datoriali. Come dicevo noi abbiamo sposato il progetto insieme a Convesercenti e Fede Artiziario proprio per portare il massimo supporto sul territorio con questo tipo di eventi.